Sì, fermate, fermate! Sta cazzata hai preso! E' questa cosa che batte, no? Sa lavorare un parcheggio, non è fa la guardia, è diverso. Sa guardia un parcheggio! Sassetto, vanno a te i gatti! Ma che cosa stai a fare? Grazie, Gesù, per averci adottato nella tua vita. Gesù è come il navigatore della macchina. Che fai il navigatore quando sbagliate strada, quando vi perdete, no? Mica dice, mi ho ammazzato, avevo detto gira a sinistra, sei andato a destra! No, ricalcola il percorso. Vi riporta sempre a casa. Già ti sei fatto cacciata al centro commerciale. Io c'ho la fila di gente qua fuori che mi sta a chiedere il lavoro. La fila per fare guardia i zingari. Vedi, ricuggiati, ecco, stiamo a finire come questi noi. Fini la colpa mia. Questi chi sono? I vicini. Come ti chiami? Agnese. Stefano. Che è? Ti volevo ringraziare. Vabbè, tranquillo. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Un'iniziativa che sostiene i ragazzi che hanno deciso di arrivare in castità al matrimonio. Perché tu ci devi ancora pensare? Sì. Come tutti gli altri. È un amico in scelta. Cioè, come sai quando ti devi fermare? Lo sa Dio quando mi devo fermare. Dove sei stata, Agnese? Parlami, eh! Ti ho fatto una domanda, no? Agnese! Io voglio rimanere pura. Tu sei pura. Ciao ragazzi! Oggi ho per voi un'altra top ten molto molto interessante. La classifica dei film più visti al cinema in Italia dagli anni 50 ad oggi. E questa classifica è basata sul numero effettivo di biglietti venduti e non sugli incassi. E svelo una prospettiva diversa sui film che hanno realmente conquistato i botteghini italiani. Allora, partiamo con il decimo posto dove troviamo la donna più bella del mondo del 1955 di Robert Z. Leonard, con Gina Lollobrigida e Vittorio Gasman, che ha raggiunto oltre 12,5 milioni di spettatori. Poi al nono posto vediamo Il Gatto Pardo del 1963 di Lucchino Visconti con Bart Lancaster e Claudia Cardinale, con oltre 12,8 milioni di spettatori. Poi abbiamo Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas e Silvana Mangano, che si piazza invece all'ottavo posto con 13,1 milioni di spettatori. E poi al settimo Il piccolo mondo di Don Camillo del 1952 di Julien Duvivier con Gino Cervi, visto al cinema da oltre 13,2 milioni di italiani. Il posto numero 6 è occupato dalla Dolce Vita di Fellini, che ha raggiunto più di 13,6 milioni di spettatori. E ad aprire la Top 5 è, per qualche dollaro in più, di Sergio Leone con Clint Eastwood con 14,5 milioni di biglietti venduti. Al quarto posto continuavano a chiamare la Trinità del 71 di Enzo Barboni con Bud Spencer e Terence Hill con 14,5 milioni di spettatori. Al terzo posto abbiamo per un pugno di dollari del 64 di Sergio Leone naturalmente con Clint Eastwood e Gian Maria Volontè con quasi 14,8 milioni di spettatori. Al secondo posto si piazza Ultimo Tango a Parigi del 72 di Bertolucci con Marlon Brando e Maria Schneider, che ha venduto oltre 15,6 milioni di biglietti. E il record assoluto di tutti i tempi per quanto riguarda i biglietti venduti nelle sale italiane è di Guerra e Pace, del 55 di King of the Door con Audrey Hepburn e Vittorio Gasman, che ha raggiunto ben 15,70,7,723 persone. Una cosa certa che risulta da questa classifica è che andiamo meno di una volta al cinema, perché quasi tutti i film della Top 10 sono degli anni 50, 60 e 70, ovviamente. Adesso ci sono altri canali per vedere i film, però il cinema rimane in assoluto il più valido e il più usufruito. Cosa ne pensate di questa classifica? Fatemi sapere cosa ne pensate e io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!